Il 9 giugno Vladimir Putin, presidente della Russia, ha inaugurato una mostra celebrativa per i 350 anni dalla nascita di Pietro il Grande. Approfittando dell'occasione, Putin, che come sappiamo è di San Pietroburgo e che per il fondatore del moderno impero russo ha una vera e propria venerazione, ha paragonato se stesso a Pietro e ha paragonato l'impresa attuale della Russia, ovvero l'aggressione contro l'Ucraina, alla guerra del Nord. Cos'è la grande guerra del Nord nella pedagogia imperiale russa, nella stereografia russa? Beh, è una formidabile impresa bellica decisiva per la nascita della moderna potenza russa, condotta dai Pietro il Grande essenzialmente contro quello che era allora l'impero dominante nell'area del Baltico e non solo l'impero svedese. Fra l'altro una guerra lunga durò dal 1700 al 1721 e la gloriosa prestazione delle forze imperiali russe contro l'armata di Carlo XII di Svezia è ancora un'epopea nella storia e nella pedagogia russa. Che cosa ci dice questo paragone? Beh, innanzitutto Putin sostiene che l'attuale attacco all'Ucraina non è nient'altro che il recupero di territori russi, così come il fatto che Pietro abbia recuperato, a suo dire, alla Russia lo spazio baltico non è altro che il ritorno a casa di un patrimonio degli zar che gli spetta di diritto. Quindi questo è un modo di dire che non sto facendo una guerra di aggressione, sto facendo una guerra di recupero, se vogliamo chiamarlo così, lui lo chiama così, di territori russi momentaneamente sotto sovranità ucraina. Primo elemento fondamentale. Secondo, nel momento in cui paragona quella che lui ha definito operazione militare speciale a una grande guerra durata più di vent'anni, evidentemente la definizione originaria perde di senso. Che vuol dire che ormai Putin sta preparando i russi a una guerra lunga, che ovviamente non è un'operazione militare speciale, ma è appunto un conflitto che impegnerà la Russia per molto tempo, tanto è vero che Putin stesso sostiene che prima di poter tornare alla prosperità del preguerra ci vorranno almeno 10 anni. Ricordiamo che fra 10 anni Putin ne avrà 80, se smentirà arrivando a 80 anni le voci che lo vogliono moribondo quasi. Vedendolo in televisione il 9 giugno non aveva proprio l'area del moribondo, anzi era piuttosto assertivo e fra le altre cose appunto paragonava quella guerra all'attuale. Ricordiamo anche che la grande guerra del nord non si svolse unicamente nello spazio baltico, ma anche in buona parte in quello che attualmente è lo spazio ucraino e che per Putin è ovviamente spazio dell'impero russo. Inoltre un altro aspetto, chiamiamolo geoculturale di quella guerra, piuttosto interessante e duraturo nel tempo, è il fatto che con il controllo russo su quell'area baltica dove poi sorge l'attuale San Pietroburgo, appunto fondata da Pietro il Grande, c'era una forte componente, soprattutto aristocratica, militare, di origine tedesca, di lingua tedesca, i germano-baltici e i germano-baltici a partire appunto dal Settecento, lungo tutto il tragitto dell'impero zarista, svolgono un ruolo fondamentale, in parte nella stessa famiglia reale, poi a corte, nelle alte burocrazie, i principali generali, diplomatici, spesso sono di origine germano-baltica e quindi danno luogo a quella fusione fra elemento slavo-russo ed elemento germanico che vediamo in qualche modo riaffiorare anche nell'attuale rapporto fra tedeschi e russi con la Germania che nel complesso dei paesi europei è di gran lunga il meno antirusso, se non proprio filo russo. Infine, un altro aspetto piuttosto rilevante di questo paragone che Putin ha voluto disegnare parlando in occasione del 350esimo di Pietro è l'assimilazione fra la figura sua e quella del grande imperatore. Come dire, la federazione russa non è uno stato creato semplicemente dal collasso dell'Unione Sovietica, ma è la forma attuale dell'impero russo e se noi guardiamo i chilometri quadrati, se guardiamo l'estensione dell'impero di Pietro il grande e della federazione russa di Putin, notiamo che siamo più o meno nell'ordine della medesima grandezza, cioè la Russia ha compiuto in questi dal 700 a oggi 300 anni un percorso che l'ha portata alla massima espansione in età sovietica quando Stalin arrivò a Berlino e poi al crollo da cui nacque appunto la federazione russa, riportando le dimensioni dell'impero, quello che era sotto Pietro il grande. Ora ha Putin il compito di recuperare, come dice lui, i territori che gli sono stati rubati. Se ci vorranno 20 anni sarà veramente una tragedia senza paragone, molto difficilmente io penso la Russia, l'Ucraina, ma anche il resto potrà reggere a una guerra di lungo periodo di tali dimensioni in uno spazio così strategico come quello dell'Ucraina.